Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro G90 Gamer rieccoci qui con Car Mechanic Simulator 2021 mi avete detto qualche dritta su questo determinato titolo ovvero la convergenza delle gomme e anche la regolazione riguardante i fari detto questo volevo vedere un attimino se magari riuscivo a fare questa cosa qui riguardante questa cosa qui se non vado errato mi sa che si fa chiudi e chiudi questa cosa qui se non vado errato si fa qui al percorso di prova riguardante la regolazione degli pneumatici eccetera eccetera vediamo vediamo quella lì è la verniciatura io sono onesto ragazzi non avevo mai capito quale fosse la convergenza e anche la regolazione dei fari convergenza a ruote la regolazione dei fari dovrebbe essere questa qui mentre questa qui invece dovrebbe essere il percorso di prova però avesse considerato che a noi non ci serve il percorso di prova ma ci serve la regolazione delle ruote ovvero la convergenza vediamo un attimo seleziona questo qui credo che dovrebbe essere credo a posto e infatti cambia valore no ok diciamo che questa qui già sta a posto però riguardante i fari ecco quando questo qui è allineato vuol dire che i fari sono sistemati abbiamo sia quello destro che quello sinistro va bene vediamo un attimino cerchiamo di fare un percorso di prova sei sicuro di voler procedere? si accetta ah ok perfetto devo mettermi io dentro e camminare con l'auto allora i freni anteriori stanno a posto ora passiamo ai freni posteriori vediamo un attimino anche loro stanno a posto riguardante invece gli ammortizzatori credo che saranno a posto anche loro si infatti però ragazzi questo Fiat Pandino inizieremo un nuovo video per il semplice fatto che lo vorrei personalizzare come più mi garba certamente ok perfetto esci per abbandonare l'auto vediamo un attimino vediamo un attimino diciamo che stanno tutti quanti a posto va bene riguardante come detto regolazione dei fari e la convergenza delle ruote va benissimo l'unica cosa che volevo vedere era questa qui se noi andiamo al dinamometro se non vado errato mi sa che lì avevo visto una cosa riguardante certamente le auto tuning riguardante la dinamometro ovvero qui questo qui non c'è nessun'auto su cui lavorare qui questa qui credo che dovrebbe essere la messa a punto oltre alla dinamometro credo che si potrebbe fare anche che l'ha messa a punto però questa qui ragazzi la vedremo poi dopo ok detto questo prendiamo l'auto e portiamola all'interno del garage però prima di portarla all'interno del garage la vorrei dare una piccola anzi no aspettate invece di dargli una lavata iniziamo quantomeno a lavorare vicino a questa macchina ok iniziamo a togliere tutta quanta la carrozzeria perché gli faremo una carrozzeria diversa da questa questa qui ragazzi come sempre andremo a venderla inizieremo proprio quest'oggi con questo nuovo lavoro e vediamo un attimino dov'è che riusciamo ad arrivare con questa macchina innanzitutto come detto ragazzi vorrei rifare il motore da capo innanzitutto me lo segno blocco motore blocco motore i3 con il blocco motore i3 vediamo un attimino com'è che siamo messi qui allora vediamo un attimino vediamo un attimino crea nuovo motore blocco motore i3 questo qua è un i4 però di i3 do vabbè siamo lì siamo lì siamo lì vediamo un attimino una cosa iniziamo a smantellare l'auto certamente ragazzi questa qui non la faremo da corsa ma la faremo giusto normale andremo a cambiare certamente gli pneumatici e tutto adesso iniziamo a smontare completamente il motore intero vediamo un attimo vediamo un attimo iniziami a togliere le quattro le due gomme anteriori certamente ragazzi che anche qui se ne andrà veramente una marea di tempo perché come detto la voglio fare da zero la voglio fare proprio da capo tutta quanta e nessuno me lo vieta tanto voglio dire l'officina è la nostra la macchina è anche nostra perché l'abbiamo presa se vi ricordate bene in qualche episodio precedente toglimi anche questo questo qui e toglimi anche la scatola del cambio certamente ragazzi andremo a verniciare qualsiasi tipo di cosa bisogna verniciare volevo togliere anche il braccio della sospensione almeno così riusciamo a togliere il motore per intero ecco qui per togliere questa bisogna togliere questo qui questo e l'altro braccio inferiore poi dopo man mano che andiamo avanti ragazzi andiamo a montare completamente tutto vediamo un attimino se magari ho dimenticato di togliere qualche cosa mi sa la cremagliera la cremagliera non dovrebbe darmi fastidio quantomeno si spera abbassami l'auto e portami questo qui al ponte A e toglimi subito subito il motore aspetta un attimo perché mo l'avevo visto monta togli per utilizzare la gru smontare il tubo di annaccia il tubo di scarico maledizione il tubo di scarico il tubo di scarico marone toglietemi davanti sto coso e che cos'è ma ogni cavolo di volta bisogna sempre fare la vabbè sì che comunque sia ragazzi voglio dire no siamo su un gioco di meccanica voglio dire no è normale che si fanno sempre le stesse identiche cose eccetera 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 va bene va bene non ci preoccupiamo più di tanto non ci preoccupiamo più di tanto a ridagliela madonna santa eh ragazzi purtroppo sono cose che mi dimentico bisogna togliere l'olio bisogna usa l'attrezzatura va benissimo ottimo perfetto e questo qui ce l'abbiamo ce l'abbiamo e ce l'abbiamo e sposta qua sto coso qui e che cos'è madonna ora me lo fai utilizzare ciccio oh finalmente che cos'è bravo ciccio bravo e dunque 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 vediamo un attimino abbiamo detto che noi abbiamo bisogno di un blocco motore i3 iniziamo subito andando nell'inventario negozio principale blocco motore i3 eccolo qui certamente ragazzi andremo a mettere tutte quante parti tuning se finirò naturalmente i soldi andremo certamente a fare un pochettino di lavori per conto nostro allora vediamo un attimino install crea no install il motore sulla postazione no e aspetta perché annaccia la miseria ogni cavolo di volta mi dimentico come cavolo è che si fa ad utilizzare questo crea nuovo motore a ridagliala non è no non è non era così install ma ridagliala non mannaccia la miseria come cavolo è che si faceva e sapete che marone santa ma perché io mi dimentico installare il motore sulla postazione no ma non era questo qui però no 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 questo 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 si lo so che il motore non va bene ah eccolo qua è un 13 ah aspettate 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 crea nuovo motore eccolo qui monta allora iniziamo blocco motore eccolo qui come detto ragazzi faremo tutto quanto con parti modificate e parti verniciate naturalmente ah mannaggia è vero ho dimenticato di prendere il ovvero di andare a verniciare il motore vabbè non fa niente non ci preoccupiamo più di tanto alternatore alternatore se non vado erato mi sa che qui all'interno qua eccolo qui uno perfetto e togli pompa dell'acqua niente la pompa dell'acqua dobbiamo prendere per forza di così qui toglimi albero a gomiti anche filtro dell'olio anche termostato vediamo un attimino se il termostato ce l'abbiamo tuning no eccolo qui e riguardante invece il filtro del carburante filtro del carburante tuning ci sta ed eccolo qui perfetto ottimo facciamo una cosa toglimi questo blocco motore e andiamo subito a verniciarlo si lo so devo fare purtroppo avanti e indietro avanti e indietro ogni cavolo di volta perché sennò altrimenti sarebbe bella come cosa attenzione alle portate in faccia buon uomo e che cos'è dunque iniziamo subito subito vediamo un attimino che tipo di colore farlo facciamo questa volta vabbè camaleonte ce l'abbiamo fatto un cromato o un rosso cromato o madonna e che cos'è sto colore qua oh un metallizzato rosso e sapete che cosa ragazzi i colori sono sempre gli stessi però che dite lo facciamo giallo un giallo ci starebbe pure bene non dico certo il contrario però forse magari un nero perlato ma nero poi dopo cozza in che senso voi che dite lo possiamo provare a fare bianco perlato o magari bianco camaleonte o bianco cromato un bianco cromato ci starebbe rovidità vediamo un attimo la saturazione luminosità vediamo un attimino se portarlo tutto quanto indietro che tipo di colore è questo vediamo vediamo un rosso perlato sì dai ci potrebbe anche stare questo rosso perlato voi che dite no vabbè camaleonte già l'abbiamo fatto cromato personalizzato io direi di farlo un rosso metallizzato saturazione luminosità dai su lo facciamo un rosso metallizzato ok perfetto vediamo un attimino se possiamo verniciare anche le altre cose eccole qui vediamo un po' vediamo un po' un rosso metallizzato abbiamo detto tutto quanto il motore eccetera eccetera pezzi e chi più ne ha più ne metta lo facciamo con un rosso metallizzato ecco qui questa qui è la carrozzeria il cambio no perché poi dopo magari vediamo un attimino riguardante il cambio riguardante il cambio lo dobbiamo prendere sempre onestamente tuning perché se no altrimenti non si va da nessunissima parte ed eccolo qui iniziamo a mettere la roba che abbiamo acquistato questo questa qui però l'alternatore non me l'ha fatto verniciare ma va bene non fa niente albero a gomiti il filtro benissimo il carburatore eccolo qui termostato non me l'ha fatto verniciare mi segno anche il volano vediamo un attimino vediamo un attimino perché giriamo un attimino perfetto e vediamo un attimo pistone supporto sono due supporti innanzitutto vediamo di prendere filtro del carburante già preso abbiamo bisogno della volano cancella questo il cambio piastra di pressione disco della frizione e spingi disco spingi disco se non vado errato mi sa che era da qua dentro eccolo qui spingi disco poi abbiamo bisogno di pistone con biella pistone con biella se non vado errato eccolo qui 4 pistoni con biella e anche il supporto per il uscinetto dell'albero a gomiti mi sa che ne erano due se non vado errato vediamo un attimino mi sa che questa roba qui noi non la potevamo verniciare ma manco per niente vabbè noi comunque sia signori ci proviamo e ci proviamo vediamo un attimino quello che possiamo verniciare possiamo verniciare questi qua no ok va bene ritorniamo di nuovo indietro eccomi qua attenzione alle portate in faccia ed ecco qui iniziamo a montare almeno questa roba ah è vero ho dimenticato di prendere le fasce per i pistoni le fasce per i pistoni se non vado errato mi sa che dovevano essere qui eccole qui le fasce per i pistoni ne sono ben 4 ecco qui iniziamo a mettere 1 e 2 aspetta ah no questa qua era ben 3 pistoni non 4 maledizione e vabbè dai su montiamo anche il volano eccolo qui il disco della frizione e la piastra di rilascio spingi il disco anche cuscinetto di rilascio della frizione scusate e vediamo un attimino di prendere queste altre robe numero 3 e vabbè dai su mi ero dimenticato che questa qui ha 3 3 pistoni quasi tipo come un moto zappa si perché il rumore è quasi quello tipo come un moto zappa si in effetti anzi a tutti gli effetti sia quasi come un moto zappa va bene va bene dai su sta uscendo anche abbastanza bene sta uscendo anche abbastanza bene vediamo un attimino coppa dell'olio eccola qui vediamo un attimino se ci vuole qualche altra cosa ci vuole la testata certamente come è giusto che sia la testata la testata vediamo un attimino se la riusciamo a trovare nel negozio del tuning eccola qui bene 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 allora abbiamo detto che era un rosso metallizzato a ridagliela e che cos'è e dai vai qui dai qui no 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 non era questo non era per niente questo allora coppa dell'olio eccola qui rosso metallizzato ecco qui la testata eccola qua perfetto rosso metallizzato si soltanto questa roba qui mi fa mi fa verniciare va bene va bene va bene non c'è problema non c'è problema possiamo ritornare indietro magari vediamo un attimino se le parti che abbiamo smontato ovvero della sospensione eccetera le possiamo riparare senza che andiamo ad acquistare sempre roba nuova roba nuova roba nuova vediamo un attimino di installare queste altre cose eccola qui tacchete allora rullo conduttore vediamo un po' questo qui invece me lo giri un attimo bene così dai così tacchete ole perfetto ora collettore albero a camme collettore vediamo un po' che cos'è che ci vuole più niente più e stiamo a posto almeno per il momento andiamo direttamente lì al negozio di verniciatura e andiamo a vedere se possiamo verniciare questa nuova roba che andremo a prendere tablet iniziamo subito no testata l'abbiamo già preso collettore di scarico vediamo un attimino collettore di scarico ce l'abbiamo dagliela aspetta un attimo albero a camme collettore di aspirazione eccolo qui riguardando invece gli altri pezzi rullo conduttore albero a camme 13 ne servono ben due e stiamo a posto a ridagliela e che cos'è madonna vai esci di qui vediamo un attimino la verniciazione possibile che non c'è niente e vabbè ahimè poco male poco male va benissimo anche così poi dopo vediamo un attimino che tipo di colore fare l'auto che tipo di colore fare anche gli pneumatici scusate i cerchioni e chi più ne ha più ne metta vediamo un attimo collettore di scarico tac e mettimi anche gli alberi a camme tacchete aspetta e tacchete perfetto allora di calotta dell'albero a camme ne servono due tre e tre sono sei tre candele e soffiamo sulle candele per il nostro mitico compleanno ingranaggio albero a camme valvola a farfalla che cos'è che ci manca più da qua davanti per adesso va bene così andiamo sempre lì alla verniciatura andiamo a vedere se possiamo sempre verniciare qualche cosa di nuovo eccetera eccetera vediamo un attimino dunque collettore sì le calotte sono ben tre e le possiamo togliere ingranaggio albero a camme ne sono due e valvola a farfalla la possiamo prendere direttamente da qui ecco qui e le candele anche tre candele bene 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 fin qua ci siamo e fin qua ci siamo ottimo vediamo un attimino se possiamo verniciare questa piccola roba possiamo verniciare soltanto la valvola a farfalla va benissimo va benissimo rosso metallizzato e ti passa la paura ben cento crediti di verniciatura e ti passa la paura bene e sì fin qua ci siamo diciamo che fin qua ci siamo tac vai così e vediamo monta dai così valvola a farfalla tac ingranaggio e ingranaggio le candele aspetta un attimo mettiamo anche le calotte sì purtroppo ho sbagliato a prendere le calotte ne avevo prese soltanto tre per un lato ma non fa niente si può risolvere tutto vediamo un attimino qua qua ce ne servono ancora altre due quindi allora non erano tre tre sei ma erano quattro e quattro otto vabbè dai su non fa niente non fa niente vediamo un attimino bobina di accensione mi segni questa mi togli questa e bobina di accensione negozio con la cinghia con la cinghia bobina di accensione canale di iniezione la cinghia vediamo un po' bobina di accensione canale iniezione e e certamente anche la cinghia di distribuzione bene perfetto montami questa e sapete che cosa facciamola questa stupidaggine toglimi le bobine di accensione e andiamo a vedere se possiamo verniciarle io ho detto che non si possono fare però mettete caso che le possiamo verniciare perché no diamo anche a loro un piccolo tocco di colore eccole qua allora il canale di iniezione si può fare uhlala che figata rosso metallizzato sempre e comunque e vediamo un attimino se possiamo fare anche le bobine di accensione no ecco infatti avevo detto giusto dai è così mi segna anche questo mi rimetti di nuovo la bobina d'accensione ok canale di iniezione tac cinghia serpentina già messa e prendiamo anche certamente il coperchio della distribuzione andiamo lì alla verniciatina ecco qui e vediamo un attimo come non ce n'è no dai ah no eccolo qui l'avevo sorpassato rosso metallizzato come sempre tac tacchete ole mont e eccolo qui vediamo cosa manca più manca il coperchio della testata rullo conduttore pulleggio dell'albero gomiti però sapete che cosa volevo provare a vedere se possiamo verniciare anche i rulli vediamo proviamoci non si può mai sapere se magari li possiamo fare o meno io comunque sia ci provo ragazzi e ci provo innanzitutto copertura coperchio della testata eccolo qui rullo conduttore e pulleggia albero a gomiti ok vediamo un po' questo qui il coperchio lo possiamo fare sempre rosso metallizzato no i rulli non li possiamo fare va bene non c'è problema ok iniziamo a montare anche questi si dai diciamo che colore distinto e separato su questa macchina ci potrebbe stare anche così come sull'altra ecco qui segnami anche questo questo qui beh dai ragazzi è uscito veramente un motore niente male niente male devo dire andiamo qui nel tablet circa cinghia serpentina tacchede tacco punta il tendi cinghia andiamo a vedere anche se lo possiamo verniciare perché se lo possiamo fare stiamo a posto aspetta un attimo ecco qui cinghia serpentina tendi cinghia ma non credo che ci sia tuning no infatti sarebbe stato bello come cosa però va bene lo stesso tendi cinghia oh la la lo possiamo anche fare va bene sempre rosso metallizzato dai 100 crediti e ti passa sempre la paura la paura tagliala mi incastro sempre che cos'è no aspetta monta ecco qui che cos'è che ci manca più credo che non ci manchi più niente vediamo un attimo vediamo un attimo vediamo vediamo no credo che sia tutto quanto ok vediamo un attimino di prendere il motore piazza o di piazzarlo qui direttamente oppure vediamo un po' se riesco quanto meno a sistemare un attimino questa roba avvio la riparazione questo è andato riprova ok si ragazzi ripariamo completamente tutto lo ripariamo così non devo spendere poi così tantissimo certamente forse magari si potrebbe spendere l'ira di dio per altre cose però non fa niente no riprova taglie ripariamo anche tutta anzi no aspettate riguardante la carrozzeria no perché la carrozzeria volevo fare direttamente quella lì tuning carrozzeria tuning volevo fare vediamo un attimino di finire di togliere tutta quanta la parte di sotto perché come detto andiamo a modificarla tutta quanta certamente andremo a verniciare completamente tutto anche qui iniziamo a smontare questa per togliere questa bisogna togliere l'estremità ecco qui perfetto ho tolto anche tutta quanta la parte anteriore dell'auto iniziamo a vedere se possiamo quantomeno sistemare questi che sono al 93% nel frattempo che lui fa qui vediamo un po' se possiamo riparare altri pezzi certamente ragazzi quelli che sono proprio maleandati proprio al che non li possiamo proprio riparare certamente andremo ad acquistarli non vi preoccupate perché si può fare tutto e si può fare tutto come detto non vado a spendere soldi per prendere la roba ma quantomeno andremo certamente a verniciarla ok non ci sono pezzi tornia eh si tornia tornio madonna sante che cos'è non riesco manco più a parlare quest'oggi madonna si devo dire ragazzi che è fatto veramente benissimo sto cavolo di tornio per i freni a disco però veramente ok allora altri pezzi non ce ne sono togli perfetto andiamo lì al negozio eh si negozio al reparto di verniciatura e andiamo a vedere quello che possiamo verniciare iniziamo subito questa qui la possiamo fare ora visto che abbiamo fatto un rosso metallizzato riguardante il motore questa volta lo voglio fare questo qui questo colore diciamo quasi oro quasi questo qui giallo no non mi piace vai ecco qui si ragazzi adesso bisognerà verniciare completamente tutto ok abbiamo fatto completamente tutto adesso mi sa tanto che dobbiamo smontare le molle dove il tiramolle eccolo qui smonta perché le ripariamo e le verniciamo rimuovi smonta anzi no aspetta no 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 ho fatto monta no si ok era smonta il pezzo vediamo un attimino come detto iniziamo a montare no 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 non qui buon uomo e che cos'è a redagliela e monta inizia a montare questa roba qui questo qua lo sterzo confuso purtroppo non lo possiamo verniciare ahimè ma va bene va bene lo stesso il coperchio del fuso anche purtroppo ragazzi non lo possiamo verniciare questo qui nemmeno questo qui va bene il disco del freno è al 100% le pastiglie dei freni che sono al 26% le voglio prendere assolutamente nuove anche se non fa niente ragazzi acquista vediamo un attimino anche come che sono messe questi qua sono al 100% queste qua ragazzi la pinza del freno vedete un po' che colore l'ho fatto l'ho fatto quasi più o meno un dorato quasi è più o meno vediamo un attimino il motore ancora no perché per il motore ci vuole ancora un attimino di tempo vai così monta montami anche questo aspettate le se non vedrete mi sa che avevo messo le pastiglie dei freni quelle male andate ah no sono al 100% maledizione no si non mi ero reso conto che erano al 100% credevo che avevo messo quelle lì dal 90 barra 95 barra 96% possiamo mettere il braccio della sospensione eccolo qui giallino fatto bene la boccola in gomma sono al 97% no vediamo un attimo boccola in gomma boccola 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 in gomma dove che stanno boccola in gomma facciamo 4 per il momento ecco qui mettiamo quelle nuove ragazzi mettiamo quelle nuove che è meglio eh sì come detto se c'è qualche cosa da acquistare andremo anche ad acquistarla non fa niente e vediamo un attimino di andare avanti con il tutto la cremagliera è al 100% barra antirollio 93% eccola qui vediamo un attimino il biella di accoppiamento la prendiamo nuova biella di accoppiamento dove che stanno due di questi e due di questi e ti passa completamente la paieura perfetto ecco qui montami anche questo 100% e stiamo a posto braccio inferiore che è il 100% 97% no aspettate vediamo un attimino di configurare gli ammortizzatori vediamo un attimo se li possiamo sistemare da qualche parte non ci sono elementi non ci sono elementi qua è la carrozzeria però aspettate riguardante la carrozzeria no soltanto la carrozzeria qui anche soltanto la carrozzeria qui niente e qui niente allora vuol dire che la sospensione certamente non la possiamo fare però non c'è problema non c'è problema perché la posso sempre prendere dunque 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 se non vado a rato mi sa che era ammortizzatore anteriore con due molle e due cuscinetti perfetto andiamo a verniciare il tutto e poi dopo possiamo montare tutto ecco qui vernicia dunque 100% che colore la possiamo fare la facciamo sempre giallo metallizzato ma si dai facciamo sempre giallo metallizzato cioè giallo è quasi un giallo è quasi un giallo vediamo una si quasi diciamo quasi e invece invece riguardante le molle vediamo un attimo se le facciamo dello stesso colore o un pochettino più chiare o più scure le possiamo fare un pochettino più chiare dai su o più scure le facciamo un pochettino più scure dai magari facciamo una cosa distinta e separata riguardante i vari colori questo qui sempre metallizzato olè vediamo un attimino che cos'è che ci manca più se magari possiamo fare delle altre cose il motorino d'avviamento l'ho già fatto carrozzeria no poi dopo il cambio lo prenderemo certamente tuning e lo verniceremo anche certamente come giusto che sia vai qui ecco qui monta ah no aspettate gli ammortizzatori mannaccia li dobbiamo assemblare insieme monta 100% no aspettate che cavolo ho fatto mannaccia sono andato a verniciare quelli là sbagliati sono andato a verniciare quelli là sbagliati maledizione dov'è che sono sono qua mannaccia ahimè e vabbè dai su ragazzi ho sbagliato anche io questa volta e vabbè non fa niente perché possiamo sempre ritornare qui selezionare selezionare il tipo di colore verniciare con 100 crediti e ti passa la paura e tutto quanto il resto tutto quanto il resto non vi preoccupate perché è tutto ok ecco qui perfetto ole apri qui damose e non so ragazzi fin quanto possiamo arrivare con questo video non so ancora dove cavolo che stai andando buon uomo e che cos'è monta qua ridagliela sempre qua vado e che cos'è monta 1 2 e 3 ole si dai diciamo che un colore abbastanza diverso l'uno dall'altro ci potrebbe anche stare no che smonta devi montare monta tutto qui testa preoccupa e poi dopo magari alla fine di tutto facciamo certamente come detto la convergenza e l'equilibratura insomma tutto ecco qui passami all'altro lato buon uomo ed ecco qua benissimo benissimo e fin qua ci siamo montami ah mannaggia questo qui non ne abbiamo però questo aspetta mannaggia ma perché per così di fretta è un attimo no lasciami fare il mio lavoro cos'è segna questo tendi i cinghia toglilo ok ho acquistato ho acquistato l'estremità della barra anti rollio fatto boccole come non ci sono pezzi su cui lavorare ah perché ci mancano le boccole ci mancano le boccole maledette boccole 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 sono quattro per adesso ne prendo ben quattro eh sì perché sono due da un lato e due dall'altro e stiamo a posto passa anche qui ah 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 braccio inferiore della sospensione mannaggia perché non ce ne sta scusa mannaggia ma che cavolo ho combinato però ci doveva stare eh no mi sa tanto che l'ho tolto l'ho cancellato vabbè non fa niente ole passiamo qui verniciamo anche quest'altro pezzo e poi magari ragazzi ci possiamo anche salutare eh come detto un giallo metallizzato eccolo qui tacchete ritorniamo indietro apri apri monta questo uno due e tre va benissimo e eh come detto ragazzi alla fine andremo a mettere il motore per adesso qui non vado a fare assolutamente niente e credo che visto e considerato che il lavoro è quasi arrivato al non dico al 100% ma almeno al 50% siamo arrivati che cos'è che ho nell'inventario braccio della sospensione metti questo 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 passami dietro aspetta un attimo e questo qui vediamo un attimino se possiamo prendere questa roba tuning così me la trovo marmitta catalitica 2 silenziatore intermedio condotto di scarico silenziatore posteriore madonna abbiamo trovato completamente tutto e si va certamente alla verniciatura verniciatina verniciatina vediamo un attimino se lo possiamo fare perché se lo possiamo fare ahimè stiamo a posto mannaggia che peccato che peccato che peccato va bene allora inventario abbiamo questa roba qui che è nella parte anteriore e va bene vediamo un attimo vediamo un attimo perché non mi fa montare ma vabbè perché mi sa tanto che ci manca ah ecco perché perché ci mancava questo qui maledizione ecco perché non mi dava anche l'altra roba questo questo e si è normale perché ci manca ancora il blocco motore poi ci manca i braccetti eccetera 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 questo qui lo possiamo montare però questo qui no perché altrimenti alla fine non posso mettere il motore togli questo togli questo e toglimi anche questo qui e stiamo a posto monta ole uno due e tre e stiamo a posto ok ragazzi ok dai su devo dire che sta uscendo anche per questa macchina qui un ottimo lavoro sapete che cos'è che volevo fare volevo vedere un attimino di spostare questo qui ponte a vediamo un attimo usa sì anche se magari non era da utilizzare però la voglio fare lo stesso anche se forse non era necessario carrozzeria pezzi gli interni anche sono da cambiare però gli interni vediamo un attimo vediamo un attimo montaggio smonta togli questo 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 e questo e stiamo a posto salvami un attimino la party tones modalità normale modalità offline e ok dai ragazzi allora io devo dire che per questo nuovo appuntamento della serie di car mechanic simulator 2021 è tutto mi raccomando fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di che cosa ne pensate e mi raccomando spoligiate commentate iscrivetevi attivate la campanellina per poter aiutare serie canale a crescere e noi ci si becca molto presto in un nuovo video un saluto a tutti da G90 Gamer ciao a tutti ragazzi